Ben tornato Goodlier, ben tornata, terminiamo con la descrizione del programma gestione attività ti sarai reso conto che ti permette di gestire meglio le attività in termini di controllo e diagnostica, credo che tu abbia già chiuso dell'applicazione, ora andiamo a vedere dei processi, cosa sono i processi? Forse è la sezione più interessante, ma anche la più ostica da visionare per il numero di informazioni che presenta, qui troverai diverse colonne, la prima è il nome dell'immagine, in pratica è il nome del processo che evidenzia una serie abbastanza ampia di nomi o sigle che rappresentano i processi attivi in tempo reale, ritroverai anche quelli che hai avviato tu manualmente oltre quelli che ha avviato il sistema operativo. Accanto è visionata la colonna nome utente che in pratica rappresenta il servizio che ha attivato il processo, se è il sistema operativo o se è l'amministratore, quindi tu. Nella colonna adiacente troverai un numero a due cifre indicante la percentuale di utilizzo del processore in tempo reale, quindi in quel momento. In questa colonna troverai dei valori prossimi allo zero o proprio zero. Il valore zero non indica che il processo, il programma non è attivato, ma semplicemente che il processore non gli sta dedicando delle risorse specifiche in quel momento. Se provi a smanettare il processo relativo, quindi uno di quelli indicati allo zero che hai attivato, tipo un programma di grafica o audio video o qualsiasi altro programma, troverai che il valore corrispondente a questo numero incrementerà dal valore zero, in modo tale da indicarti che la CPU in quel momento gli sta dedicando delle risorse, se ne sta occupando insomma. La cosa che devi tenere sotto controllo è che più alto è questo valore, maggior attenzione, quindi maggior risorse, il processore dedicherà a quel dato programma. proprio questo devi monitorare se troverai qualche rallentamento o blocco del PC. Noterai infatti, in quest'ultimo caso, che uno o più processi succheranno la maggiore attenzione del processore, quindi i valori saranno molto alti. Beh, come sbloccare in questo caso il computer che presenta un indicatore di percentuale di processore molto elevato, sarà sufficiente cliccare sul processo o sui processi attivi e chiudere il processo stesso, grazie al pulsante che si trova in basso a destra. In questo caso troverai il pulsante termina processo che sarà leggermente diverso dalla sezione che abbiamo visto nella lezione precedente, ma comunque l'effetto sarà sempre lo stesso, ossia chiudere forzatamente il programma o il processo che hai selezionato. Occhio a una cosa, noterai che c'è un valore molto alto, prossimo al 100%, indicato con il nome processo di inattività del sistema. Ironicamente è in pratica il tempo che il processore si riposa. Sembrerebbe che il processore non faccia niente per la maggior parte del tempo. In realtà, per spiegarti meglio questo numero, immaginati alla guida di un'automobile su un'autostrada nel momento in cui hai raggiunto una tua velocità di crociera standard. Hai la marcia inserita più alta, l'autoradio con una bella musica e totalmente rilassato aggiungendo anche qualche altra operazione che vuoi tu, ma tutto con estrema calma. La tua unica attenzione, per modo di dire, sarà rivolta al mantenimento del tuo stato di guida. Quindi, se in pratica avessi un indicatore di energia consumata in quel momento, collegata al tuo corpo, in questo specifico momento indicherà un valore abbastanza basso, relativo alla condizione standard, quindi di rilassamento. Ora ti viene in mente di cambiare stazione radio, quindi tu cosa farai? Dovrai sollevare con grossa fatica il tuo braccio, indirizzarlo verso l'autorario per cambiare la stazione. In questo caso, l'indicatore di consumo incrementerà un pochino il valore fino a tornare alla condizione standard. Ma tu non è che stai facendo nulla, stai semplicemente guidando. D'un tratto devi superare una macchina, quindi metterai la freccia, scalerai la marcia, eseguirai il sorpasso e tornerai nella corsia di crociera incrementando di nuovo il valore per un dato periodo. Quindi, in quest'ultima azione, l'indicatore di consumo subirà un elevato incremento per poi ristabilirsi in una condizione abbastanza standard. Questo esempio per farti comprendere meglio il senso del valore così alto per il processo di inattività del sistema. Ciò che intendo sottolineare è che devi verificare eventualmente quale processo ti porta a un consumo improprio di risorse del processore che ti rende apparentemente bloccato il computer. Saltuariamente potrebbe accadere un incremento importante di consumo di attenzione del processore, ad esempio se attivi molti processi contemporaneamente, oppure anche uno solo che succhia esagerate risorse al processore, come ad esempio i giochi oppure un'elaborazione video. Ma solo saltuariamente può accadere. Non deve essere costante, altrimenti il tuo computer sarà di fatto inutilizzabile. In quel momento dovrà entrare in atto la tua capacità malutentiva nell'ottimizzare il computer, il sistema operativo. Torniamo alla descrizione del programma gestione attività e controlliamo le altre colonne. Accanto alla colonna CPU trovi la colonna memoria che in pratica evidenzia quanta memoria RAM utilizza quel dato programma, quel dato processo. Anche questo se vogliamo è un indicatore dell'uso delle risorse del tuo computer. In pratica una parte della RAM in dotazione al sistema operativo viene dedicata a quel dato processo, quindi un utilizzo importante della RAM, fa intendere che quel programma succhia grosse risorse. Infine, nell'ultima colonna trovi la sezione descrizione, che è un indicatore di massima che ti può aiutare a comprendere cosa esegue quel dato processo. Avrai notato che il nome del processo non è così esplicito, magari lo fosse per evitare molti problemi in fase di diagnosi. Spesso infatti troverai una sigla che dovrai interpretare proprio grazie all'utilizzo della colonna della descrizione del processo stesso. Altrimenti, in caso di difficoltà, puoi far sempre l'uso, grazie ai motori di ricerca, delle informazioni che potrai ottenere su Internet, semplicemente scrivendo la sigla del nome del processo. Ora è il turno della sezione servizi. Come potrai vedere, c'è tanta carne al fuoco, ancor più che nei processi. Qui infatti sono evidenziati tutti i servizi che sono presenti nel sistema operativo. Alcuni di essi sono in esecuzione, altri sono per così dire in stand-by e altri sono disattivati o perché non sono stati attivati all'atto dell'avvio del sistema operativo o perché tu stesso li hai disattivati. Nella colonna di sinistra troverai sempre scritto il nome del servizio. Anche qui troverai sigle abbastanza incomprensibili. Subito dopo c'è una colonna indicata con la sigla PID che identifica il numero che il sistema operativo da quel dato servizio. Dopo trovi una descrizione sommaria che ti permette anche in questo caso di avere per grandi linee un'indicazione di quel che evidenzia la funzione del servizio. Poi trovi la colonna dello stato dello stesso che evidenzerà se il servizio è in esecuzione o è stato interrotto e alla fine il gruppo del servizio. In pratica la categoria a cui appartiene quel determinato servizio. In basso trovi un pulsante chiamato servizi. Cliccando su questo pulsante potrai ottenere maggiori informazioni di questa lista di servizi evidenziate in parte in questa sezione. Nella lista come abbiamo detto troverai i servizi in esecuzione e quelli interrotti. Cliccando con il pulsante destro del mouse su uno o più servizi singolarmente potrai avviare quelli interrotti oppure interrompere quelli che sono avviati oppure saperne di più grazie alla colonna della descrizione. La sezione prestazioni evidenzia l'uso grafico delle risorse del computer in modo da renderti conto in maniera visiva di ciò che sta facendo il computer e di quanto lo stai spremendo. Noterai un grafico che fornisce indicazioni percentuali dell'utilizzo della CPU in quel momento. Accanto in base al numero di processori del tuo computer avrai evidenziato l'utilizzo degli stessi in formato grafico in un arco temporale. Sotto avrai la colonna che evidenzia l'utilizzo della memoria RAM in quel determinato momento e la cronologia d'uso relativa a questa percentuale in un arco temporale. Nella sezione in basso trovi tra l'altro altre informazioni numeriche relative alla RAM, al sistema e alla memoria kernel della scheda madre, ma troverai anche un pulsante monitoraggio risorse. In questa sezione si apriranno nuovi scenari e per il momento la mettiamo da parte. Questa sezione sarà dedicata appunto al monitoraggio del tuo computer. Quindi ti permetterà di tenere sotto controllo risorse hardware e software in tempo reale per poter evidenziare eventuali problemi. Ma andiamo avanti nella descrizione del programma gestione attività. La sezione rete evidenzia graficamente l'uso del PC se connesso ad una rete in termini di percentuale, di velocità e di stato. Numeri che potrai evidenziare in questa ultima sezione dedicata agli utenti saranno elencati gli utenti del computer. Ovviamente se utilizzi un singolo computer troverai una sola riga. Se i computer saranno più di uno troverai diversi utenti e cliccando su ogni singolo utente ti si aprirà un menu e potrai decidere di disconnettere o connettere un determinato utente, chiudergli la sessione di lavoro oppure inviargli un messaggio tramite la rete. Bene Goodlier, eccoci di fronte al nostro desktop. Avviamo, come già sai, gestione attività, massimizziamo il tutto e reghiamoci, se non fosse selezionata, la sezione processi. Come puoi ben vedere ci sono alcune colonne. Subito ti indico il modo in cui poter cambiare l'ordine se alfabetico o al contrario, quindi sarà sufficiente cliccare su ogni singola colonna. Potrai anche ordinarli in base al consumo di CPU, oppure in base al consumo di memoria RAM in senso crescente o decrescente, oppure in base al nome utente o in base alla descrizione in ordine alfabetico. Ordiniamoceli in base a un ordine alfabetico e vediamo come poter interagire con i processi. In questa sezione ho avviato dei programmi che normalmente non utilizzo, ma che lavorano in background. Potrai disattivare i tuoi processi semplicemente cliccando, come abbiamo detto, o con il pulsante destro e selezionando Termina processo, oppure selezionando il processo che vuoi chiudere e cliccando sul pulsante Termina processo. Vediamo alcuni esempi. Qui ho un programma di gestione di iTunes che normalmente non utilizzo. Sarà sufficiente cliccare con il pulsante Termina processo ad una conferma. Vedrai che questo programma si chiuderà. Altro programma che posso chiudere è la ricerca degli aggiornamenti di un browser chiamato Dragon. In questo caso utilizzo il pulsante Termina processo. Una conferma sarà richiesta. Cliccando sopra chiuderò il processo che non mi serve. Altra possibilità di chiudere che non l'avevo ancora evidenziato con il tasto Canch. La richiesta sarà sempre notificata e quindi io, cliccando sul Termina processo, chiuderò il processo che non mi serve. È così per tutti gli altri processi che vuoi chiudere e di cui conosci la provenienza. Per gli altri processi dubbiosi non ti resta che individuare una maggiore informazione con la colonna Descrizione o, come vedremo in seguito, grazie ai servizi o, ancora meglio, grazie ad Internet stesso. La colonna accanto al nome Immagine evidenzia la percentuale di utilizzo del processore. In questo caso, come puoi vedere, il programma che sto utilizzando per la registrazione di questa lezione ha un valore che è più alto rispetto agli altri, ma di certo non raggiunge valori elevatissimi tali da bloccarmi il computer. Accanto trovi il valore di memoria che, come puoi ben vedere, impiegata proprio da questo programma, è abbastanza sostenuta a fronte degli altri programmi che sono attivi in questo momento. E d'altronde stiamo parlando di un programma che gestisce il video, quindi le risorse in gioco sono abbastanza ampie. Nella colonna Nome utente troverai il nome di colui che ha avviato il programma oppure lo ha installato, come nel caso proprio del programma che sto utilizzando per registrare questa lezione. Nella colonna di destra puoi avere un'indicazione di massima di quel che è la descrizione del processo. Come puoi vedere hai una variazione frequente della visualizzazione. Questo perché ho, in questo caso, deciso di ordinare la visualizzazione in base al consumo di processore. Nel caso in cui ordino la visualizzazione in ordine alfabetico o per qualsiasi altro parametro vedi che è abbastanza statica in quanto le variazioni saranno sì evidenziate ma l'ordine non dipenderà più da questa colonna che è molto dinamica ma dalle altre che sono statiche. Andiamo nella sezione servizi. Qui puoi, ordiniamocelo sempre, vedere il nome dei servizi che sono attivi. Qui il numero identificativo che il sistema operativo fornisce al processo stesso dove non sono indicati i numeri. Ciò evidenzia che il dato servizio in questo momento è interrotto. Al centro trovi la descrizione che ti può aiutare per capire cosa esegue meglio il processo. Accanto c'è la colonna stato del processo quindi puoi ordinarla in base ai processi in esecuzione o interrotti. E nell'ultima colonna c'è una descrizione di quel che è il gruppo, ossia la categoria nella quale rientra questo specifico servizio. Cliccando sulla sezione servizi entreremo in una sezione più definita rispetto ai servizi che hai attualmente visualizzato. Clicchiamoci sopra e andiamo a dare una visione di massima. Massimizziamo il tutto, allardiamo un pochino le colonne per una miglior lettura. Su ogni servizio che puoi selezionare, anche qui ordinare a tuo piacimento, puoi avere un'indicazione di massima o in questa colonna o in questa di ciò che evidenzia il singolo servizio in modo da avere un'indicazione migliore del compito che sta eseguendo quel determinato servizio. Potrai ordinarlo in vario modo, seguendo un ordine di servizio avviato o servizio interrotto. Andando a individuare lo stato del servizio, un servizio avviato può essere arrestato o riavviato tramite questi pulsanti oppure cliccando con il pulsante destro, semplicemente individuando il pulsante Arresta. Andando su un processo che non è stato avviato, potrai avviare lo stesso o tramite questo pulsante o con il menu del pulsante destro generato dal mouse. Chiudiamo e andiamo a vedere le altre sezioni di gestione attività. Nella sezione prestazioni potremo vedere la sezione relativa all'utilizzo della CPU, in questo caso siamo intorno al 30%, oppure graficamente l'impiego dei due processori installati all'interno di questo computer. Sotto evidenziato il valore in megabyte della quantità di RAM utilizzata e qui la sua quantità, cronologicamente parlando, in un tempo determinato di utilizzo. In basso trovi un'altra sezione che rappresenta numericamente dei dati riferiti alla memoria fisica, quindi alla RAM disponibile in questo dato computer, e alcuni numeri relativi al sistema e alla memoria Kenner della motherboard. Questo pulsante Monitoraggio di risorse evidenzierà alcune informazioni che ti permetteranno di monitorare lo stato di hardware o software nel caso in cui devi diagnosticare e evidenziare qualche problema. Cliccandoci sopra andiamo a vedere soltanto cosa ci presenta il programma e magari lo tratteremo in seguito. Andiamo a vedere la sezione rete di gestione di attività. Questo computer è connesso semplicemente ad internet e non ad una rete di computer. In questo caso ho una percentuale molto bassa di utilizzo alla rete locale. L'ultima sezione è relativa agli utenti. In questo caso, come dicevo prima, questo è un unico computer di una rete per cui comparirà soltanto un nome. Nel caso in cui hai una rete di computer, cliccando con il pulsante destro potrai decidere di disconnettere ed eventualmente riconnettere l'utente, chiudergli la sessione o eseguire un controllo a distanza oppure inviargli un messaggio. Nella prossima lezione descriverò un nuovo programma del sistema operativo chiamato Esplora Risorse. Ora un forte saluto, ciao a presto da Carlo e alla prossima!